Come vuole la tradizione politica americana, il presidente uscente Barack Obama si è congratulato con Donald Trump per la vittoria e lo ha invitato alla Casa Bianca per discutere del passaggio di consegne. Una staffetta che deve avvenire nel modo più facile possibile, ha detto Obama, malgrado tutto. Non è un segreto che il presidente eletto ed io abbiamo grandi diversità di vedute, ma ricordate, otto anni fa c'erano grandi differenze anche fra il presidente Bush e Dio. Ora facciamo tutti il tifo per il suo successo nell'unire e guidare il Paese. La transizione pacifica del potere è uno dei marchi di fabbrica della nostra democrazia e nel corso dei prossimi mesi lo dimostreremo al mondo. Obama ha di nuovo espresso tutta la propria ammirazione per la candidata sconfitta Hillary Clinton e ha chiesto ai giovani americani e soprattutto alle giovani di prendere esempio da lei e dalla sua tenacia.